ciao a tutti sono sempre il greg e questo è il mio canale in genere horror questo video inaugura una nuova rubrica una nuova playlist per riscoprire dei film precedenti a tutto quello che che faccio di volta in volta cioè recensioni degli ultimi delle ultimissime uscite in streaming e piattaforma streaming e in sala perché se è vero che nella playlist dedicata al trash o dedicata ai capolavori parlo anche di film del passato ma è anche vero che ci sono poche occasioni per riprendere qualche film del passato parlarne in poche parole ma soprattutto proporverli per un recupero una seconda visione una prima visione se siete dei nuovi appassionati di cinema horror e quindi inauguro quelli che sono in maniera molto umile i miei consigli che arrivano da una persona che è un appassionato di cinema horror come voi io consiglio sempre di vedere tutti i film però ripeto se magari c'è poco tempo e poche occasioni ci sono per recuperare dei film del passato più o meno recente più o meno remoto ecco che qualche spunto io ve lo do volentieri quindi sono degli spunti sono dei consigli io in maniera molto molto umile sottovoce vi do questi tre consigli di oggi e il primo è nocturna o notturno un film che potete trovare su prime video ora in descrizione vi darò anche la scheda tecnica e dove vedere i film però ve lo dico anche a voce prime video è una coproduzione bloom house amazon studios è un film di zuck kirk del 2020 quindi recente mai di un paio d'anni fa ed è un film che sembra già essere lì a prendere la polvere perché poco se ne parla e poco secondo me se ne è parlato non è un capolavoro perché i consigli che che do di volta in volta non riguardano solamente capolavori ma magari piccoli film piccoli gioiellini che devono essere scoperti riscoperti anche qui si parla di due sorelle due musiciste due talenti del pianoforte che vanno a scuola di musica la prima una sorella però vive la luce del sole vive con attorniata da persone che le vogliono bene relazioni sociali ben solide un ragazzo un fidanzato che fatalità però è conteso con l'altra sorella che vive nell'ombra che una relazioni sociali che vuole rivalsa la rivalsa la otterrà e riuscirà ad averla grazie al ritrovamento di un quadernetto che contiene appunti e spartiti che è un quadernetto che appartiene o meglio apparteneva ad una ragazza della scuola la più talentuosa quella che doveva suonare come solista al concerto di fine anno della scuola e che è morta suicida ecco che questo quadernetto sarà la possibilità di rivalsa di ottenere il successo che tanto desidera la ragazza però quanto costa il successo e dove ci si vuole fino a che punto ci si vuole spingere per ottenere successo basta mi fermo qui perché il film è tutto da vedere inquieta crea tensione crea un po di ansia quella giusta che 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 viene creata dai film dell'orrore fatti bene che sono quelli che considero che piccoli gioiellini da riscoprire da rivedere o da vedere per la prima volta perché ripeto non mi pare che sia molto sia stato molto pubblicizzato non è ripeto un capolavoro ma un film che a me era piaciuto e che quindi mi va di consigliarvi se volete recuperare un film di un paio di anni fa il secondo film che voglio consigliare qui ci si alza un po la decisamente la sticella perché qui si parla di capolavoro è inutile girarci tanto intorno ed è il capolavoro di brian yusna society the horror non lo si trova in streaming o forse lo si trova su quelle piattaforme che lo fanno vedere anche con pubblicità ma sicuramente lo potete trovare con l'edizione midline factory che ha realizzato il blu ray e il dvd in edizione limitata non ha costi ovviamente dei classici dvd e blu ray ma non ha nemmeno forse costi esorbitanti ad oggi se cercate in rete è comunque un film che conosceranno a meno dito gli appassionati cinema horror che va però consigliato per averlo in collezione sicuramente per chi ancora non ce l'avesse e che consiglio caldamente a tutti quei nuovi appassionati horror che vogliono tornare indietro con il tempo e che devono tornare indietro con il tempo per scoprire i grandi capolavori del passato quindi si deve passare ovviamente la society the horror di brian yusna che parla di un ragazzo che vive nella beverly hills della fine degli anni 80 ha tornato da persone ricche amici ricchi la famiglia stessa è ricca però il rapporto che ha con le persone con i familiari è molto particolare non riesce a legare perché parenti e amici si comportano in modo strano sembrano avere dei segreti inquietanti e i segreti inquietanti verranno fuori nella seconda parte del film che è un film che è un vero e proprio body horror quindi se vi piace il body horror questo è un grande grandissimo esempio di body horror ed è un film ovviamente che è un cult ma è anche un capolavoro il terzo consiglio che che vi do è quello di tornare un bel po indietro nel tempo ma secondo me la stricella si alza veramente molto siamo nel 1935 non spaventatevi perché qui si parla di un periodo comunque che ha dato alla luce grandissime produzioni dracula frankenstein e proprio frankenstein darà poi come conseguenza alla luce un altro film cioè il seguito il suo seguito forse il primo esempio del seguito migliore del primo film siamo due a due film siamo a due livelli altissimi però fra anche il seguito di frankenstein la moglie di frankenstein è un capolavoro assoluto della storia del cinema per messa in scena per tecnica per per modo anche rivoluzionario di di fare un film perché siamo nel 35 quindi dobbiamo renderci conto del periodo storico in cui è stato fatto dei mezzi che si avevano a disposizione ma del grandissimo talento di James Whale e di tutti quelli che hanno contribuito a realizzare il film e il film è la storia in pochissime parole la prima creatura di frankenstein è riprosopravvissuta al primo film al finale del primo film vaga per le campagne è a ricerca e la ricerca e sta crescendo emotivamente come sentimenti perché già nel primo film si capiva e si percepiva qualcosa di questo tipo ma in questo film che c'è un'evoluzione forte fortissima dal punto di vista emotivo e sentimentale da parte della creatura di frankenstein che ha anche bisogno di amore e l'amore lo troverà nella quella che è la moglie che gli viene creata appositamente dal dottor frankenstein e dal suo vecchio professore di medicina creeranno questa questa creatura di sesso femminile dal titolo al film e che quella quell'iconica figura e creatura dalla capigliatura capelli neri estriati con del zig zag di bianco ai lati è la famosissima capigliatura che trovate ovunque dalle serie tv ai cartoni animati alle parodie ai film horror è ovunque è talmente iconica che veramente la si trova quando qualcuno vuole mettere un elemento horror anche di pochi di pochi secondi basta utilizzare quel tipo di capigliatura è già si ritorna a un classicissimo del cinema horror ma anche un classico del cinema nel suo complesso un capolavoro assoluto mi rivolgo soprattutto ai nuovi appassionati quelli che potrebbero far fatica ad affrontare ha già un film dell'anno 80 figuriamoci un film del 1935 mandate oltre a quello che può essere un freno iniziale per scoprire veramente come possa essere rivoluzionario un film anche di quell'epoca come possa essere ancora bello per gli occhi visivamente vedere un film girato nel 1935 perché c'è grande tecnica grande capacità artistica e c'è un film che per tanti motivi non vi dico lo scopritelo vi lascerà veramente a bocca aperta è un film particolarissimo ed è un film che deve assolutamente piacervi perché vi piacerà sicuramente ecco ovviamente tutte queste parole non valgono per chi il film lo conosce e lo ha perfino studiato molto più di me sinceramente però questi sono tre titoli che mi andava di riproporre di consigliarvi se possiamo usare questo termine consigli in maniera molto umile perché sicuramente sto parlando a persone che possono avere benissimo più esperienza più conoscenza di me nel cinema di genere ma io da appassionato di cinema horror ho piacere di parlare di questa mia passione e ho anche il piacere di parlare di titoli che devono essere rispolverati perché magari nel 2020 sono già lì a prendere la polvere ma anche scoperti da chi il cinema lo sta affrontando da poco e perché no per fare due parole anche su dei grandi film del passato questo era quello che mi andava di fare con questo primo video se vi piacerà se vedrò che avrà successo continuerò anche successivamente a mettere dei video con dei suggerimenti o dei consigli che mi possono venire in mente di volta in volta con dei film che hanno dei motivi uno diverso dall'altro per essere riscoperti non mi resta che ha il film dimenticavo la moglie di frankenstein lo si trova in edizione blu-ray a pochissimo a meno di 10 euro quindi recuperatelo in blu-ray perché vale veramente la pena per quello che costa averlo e guardarselo guardarselo più volte per capire che cos'è quel tipo di cinema da qui è nato veramente molto poi negli anni successivi praticamente quasi tutto negli anni successivi gran parte delle ispirazioni del cinema horror quindi non mi resta non mi resta che augurarvi buona visione e appuntamento alla prossima